La Dinamo Sassari esce dalla Coppa Italia Final 8 Frecciarossa. Amici e amici appassionati di grande basket italiano, buonasera e benvenuti su Mollerino Sporcianel Ragazzi. Purtroppo la mia Dinamo è uscita appunto dalla manifestazione, era la testa di serie numero 8, quindi è andata a sfidare l'Olimpia Milano, sicuramente la squadra più forte d'Europa per quanto riguarda la metà campo difensiva. Ce la siamo giocata per due quarti e mezzo, ma poi la forza della squadra di Messina ha preso il sopravvento costringendoci praticamente ad un quarto e mezzo di garbage time. Risultato finale 88 a 68 per la squadra di Messina. Andiamo a analizzare un po' la situazione appunto della partita. È stata una partita giocata a viso aperto dalle due squadre con l'Olimpia che parte subito bene, gli entrava praticamente di tutto. Sassari che vi ricordo, falcidiata dal Covid nelle ultime settimane, ha saltato le ultime due partite dell'EBA, ha terminato la quarantena pochi giorni fa, è dovuto rimanere in Sardegna, Emantas Benjus, uno dei titolari effettivamente del quintetto della squadra di Piero Bucchi. Ma lo sapete quanto sia importante Emantas Benjus nello scacchiere tattico dell'allenatore bolognese. Infatti l'ala grande, diciamo, della Dinamo, sfruttando la sua altezza, essendo un tiratore, era davvero un'arma in più di questa Dinamo ed è mancato. Chiaramente la Dinamo avrebbe perso lo stesso contro questo Olimpia Milano. Attenzione, perché poi Milano veramente ha messo i vari B-Liga, i vari Baldasso, se l'è giocata molto a garbage time. Però veramente, mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra di Piero Bucchi, che poteva già soccombere nel primo periodo, perché nel primo periodo Sassari è partita discretamente, però Milano è partita davvero molto molto bene. Metteva davvero la qualunque, con un ottimo 3-day nel salinizio veramente metteva la qualunque. E Sassari che è stata lì sempre, sopra la doppia cifra di svantaggio o sotto, più o meno intorno ai 10 punti di svantaggio. Ma si è ripresa nella seconda parte del secondo periodo, dopo davvero un primo periodo concluso sul 27-18, riuscendo a portare, mi sembra, sul meno 5 all'intervallo la partita. E lì ero contentissimo per come era andata fino a quel momento, perché io sapevo la condizione fisica di Sassari, la condizione fisica di Milano, i valori in campo di Sassari e i valori in campo dell'Olimpia. Poi però purtroppo, quando tu giochi contro la Fossa delle Marianne, perché questo è Milano in difesa, è la Fossa delle Marianne, cioè veramente, quando giustamente si gioca un pick and roll, come ha detto appunto Castelli, giustamente ci dovrebbe essere il vantaggio per il playmaker che va contro il piccolo, il piccolo di tour, cioè del playmaker che va contro il lungo della squadra avversaria, giustamente. Ma quando tu fai pick and roll, infatti Sassari non l'ha usato moltissimo questa tecnica, perché non aveva, era completamente sconveniente farlo contro Milano, perché quando tu fai pick and roll, magari Robinson, rispetto che col Ciaccio ti finisce contro meglio, contro Heinz, contro due tra i più grandi difensori di questo continente, effettivamente non aveva senso fare pick and roll. Poi, finalmente è uscita la vera Olimpia Milano in attacco, la vera Olimpia Milano in difesa, unito tutto questo ad una Sassari che secondo me poteva fare leggermente meglio, perché io ho visto molte, ma molte, soluzioni forzate, ma non forzate dalla difesa di Milano, che ha fatto comunque un lavoro eccelso nel terzo periodo, ma forzate proprio da un senso di frenesia che ho visto nella squadra di Piero Bucchi quando il vantaggio si è iniziato a dilatare. Sassari non ha segnato per praticamente circa cinque minuti interi del terzo periodo. E' del terzo periodo, scusate. Considerate che questa forza, diciamo, di essere in questa maniera abbastanza... Non mi vengono le parole, ragazzi. Frenetica, volevo dire. Ho dovuto stoppare il video perché ci ho dovuto pensare. Credo sia dovuto al fatto che, visto che Milano stava iniziando a scappare, abbiamo detto noi dobbiamo iniziare a prendere tiri, tiri su tiri, tiri su tiri, perché così li riprendevo subito. Cosa più sbagliata non poteva esserci, veramente. Perché abbiamo fatto scappare Milano ed è stato la lungo decisivo. Poi nel quarto periodo, assoluta amministrazione da parte dell'Olivia. Meno 20, purtroppo meritato, però ragazzi, veramente eravamo in condizioni pietose. Iniziamo a parlare dell'NVP, ragazzi. MVP, ragazzi. Miglior giocatore della partita. Maoko Delaney. 24 punti, top scorer in 29 minuti. Non ha tirato benissimo perché il 50% ha dovuto il 66,7 da 3 punti. Ha fatto 4 su 6, quindi ottimo da 3 punti. 14 di plus-minus. Voglio citare anche Devon Hall, che ha fatto una partita decente. Non il solito Devon Hall, però davvero una partita buona anche dell'ex giocatore del Bamberg. Ottima, ottima, ottima partita a livello difensivo, effettivamente, lo possiamo dire, di Nicolo Melli. Nicolo Melli che ha fatto solo 4 punti in 21 minuti. Però ragazzi, intimidazione difensiva veramente eccelsa. Veramente plus-minus di 22 per lui. Veramente ottima prestazione da parte sua. A questo punto passiamo alla Dinamo. Passiamo alla Dinamo-Sassari. Perché per quanto riguarda la Dinamo, devo dire che non mi è piaciuto quest'oggi Jelan Robinson. Robinson purtroppo è forse la prima partita che ha steccato in LBA, appunto da quando è arrivato in questa Lega. E la prima partita che ha steccato l'ho visto un po' troppo imbrigliato contro gli esseri milanesi. Per quanto riguarda quello che forse si salva di questa giornata, appunto, delle Final 8, è David Logan. David Logan fa 17 di valutazione, 19 punti in 26 minuti di gioco. E ragazzi, l'ho visto giocare con un'energia clamorosa. Siamo abituati a vedere David Logan, lo sapete, gioca come se fosse un ventenne e invece quasi un quarantenne. Buonissima partita da parte dell'ex giudatore di Treviso, ma non basta. Perché contro veramente gli alieni. E vorrei citare anche Christian Mecovulu. Perché io mi sarei aspettato, per quanto i centri di Milano non sono probabilmente a livello di pacchetto i più grandi, incredibili possenti. Perché c'è Ainz che è Ainz. Però oltre quello non è che ci sia tutta questa cristiana roba. Infatti lo sapete, come dice il buon Edo, gli manca il centro alto grosso, brutto e cattivo per vincere l'Eurolega. E sono d'accordo con lui. Io credo, effettivamente, che Mecovulu abbia un problema mentale. Perché quando lui gioca libero, perché oggi l'ho visto giocare libero, ha giocato molto bene, secondo me. A dimostrazione i suoi quindici, i suoi tredici, scusate, di valutazione, il secondo migliore della squadra. Quindi ragazzi, adesso ci sarà la seconda semifinale fra Trent e Brescia. Vi dico il mio pronostico che per la Germania-Brescia. Però occhio perché Molin potrebbe uscire la qualunque dal taschino. E niente, vi ricordo che la vincitrice di questa semifinale sfiderà, di questo quarto di finale, sfiderà Milano. Nella prima semifinale. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, leggermente iscrizione e condividete il video con i vostri amici. Passate dal nostro regionistro a Morino Sport, gruppo Telegram Morino Sport Channel Telegram. Torneremo attivi anche su Twitch, sulla piattaforma Viola, Mollerino, Live Channel. Ora forse cambierò anche il profilo. E niente ragazzi, non so quanto dedicherò a queste Final 8. La partita di stasera non so se la farò personalmente. Però chiaramente finale e semifinali, credo, li andrò a ricoprire tutte. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. E mi raccomando, vedetevi queste Final 8 perché sono uno spettacolo incredibile. Il format davvero azzeccatissimo. Ciao!